Buongiorno concittadine e concittadini e benvenuti all'appuntamento settimanale del sindaco di Saluggia sul punto della situazione. Lunedì 18 ottobre 2010 hanno avuto inizio i lavori per la realizzazione a Sant'Antonino del nuovo pozzo per la distribuzione dell'acqua potabile. E' bene ricordare che in merito alle infrastrutture di urbanizzazione primaria da costituirsi a Sant'Antonino, l'amministrazione comunale già nel momento della stesura del proprio programma amministrativo ha posto quale obiettivo di assoluta priorità per ciò che concerne la captazione e la distribuzione dell'acqua potabile, il superamento dell'attuale sistema di depurazione con carboni attivi e successiva colorazione dell'acqua poi messa in rete. Questa è un'emergenza che si trascina da oltre 15 anni e che oggi con l'abbio dei lavori per la costruzione del nuovo pozzo potrà finalmente essere superata entro la fine del mandato amministrativo e quindi nella primavera del 2012. Non è stata sicuramente un'impresa facile dal momento che la gestione dell'acquedotto della funiatura e della depurazione, il cosiddetto servizio idico integrato, sono definitivamente uscite dal controllo diretto dell'amministrazione comunale. Trattasi quindi di servizi che sono attualmente sotto la direzione del consorzio obbligatorio interprovinciale del lato 2, l'ambito territoriale ottimale definito dalla regione Piemonte e sono gestiti direttamente in Saluggia dalla società Atena che riscuote le relative bollette. L'amministrazione comunale di Saluggia ha ottenuto da Atena un impegno a perforare in Sant'Antonino un nuovo pozzo a servizio dell'acquedotto. L'alternativa comunque accettabile sarebbe stata quella di collegare la rete del capoluogo a quella della frazione, però questa operazione avrebbe comportato la necessità di sostituire l'intera rete principale a servizio del capoluogo di dimensioni non sufficienti per poter servire anche la frazione e i costi troppo elevati dell'intervento, che è stato ipotizzato con un impegno di spesa di 1.200.000 Euro, hanno quindi condotto alla soluzione scelta di perforare un nuovo pozzo nella frazione di Sant'Antonino. L'amministrazione comunale ha quindi messo a disposizione l'area in adiacenza al campo sportivo comunale di Sant'Antonino, nel lato sud, ed alta si è ottenuto la concessione di un contributo dalla Regione Piemonte di 298.000 Euro. Questo contributo è stato girato ad Atena, la quale a sua volta aggiungendo 192.000 Euro ha potuto coprire interamente il costo dell'opera, che è stato quantificato in circa 490.000 Euro. I lavori sono stati appaltati entro il 30 settembre 2010 ed appunto hanno avuto inizio con la consegna dei lavori avvenuta il 18 ottobre 2010. Il nuovo pozzo capterà l'acqua ad una profondità di 150 metri, dopo l'ultimazione delle opere per legge dovrà essere monitorato per 12 mesi al fine di verificare la salubrità delle acque e quindi sarà collegato direttamente alla rete idrica a servizio della operazione. Tengo a sottolineare che l'amministrazione comunale è soddisfatta ed orgogliosa per essere riuscita a tradurre in realtà un sogno dei cittadini di Sant'Antonino atteso da oltre 15 anni. Vi ricordo in chiusura che queste ed altre informazioni sull'attività svolta dall'amministrazione comunale le trovate ogni giorno sul sito internet del Comune di Saluggia www.comune.saluggia.wc.it. Vi ringrazio dell'attenzione e rivolgo a voi il mio arrivederci al prossimo appuntamento con il punto del Sindaco di Saluggia. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.